16 eventi in 4 giorni, oltre 4.800 partecipanti, 33 fra partner, supporter e patrocini, 87 speaker e più di 50 ospiti internazionali e nazionali. Sono questi i numeri a consultivo della seconda edizione della Legal Community Week che si è svolta a Milano dall'11 al 15 giugno scorso. Un appuntamento che ha messo Milano al centro della business community nazionale e internazionale rendendola il primo distretto professionale d'Italia. Durante le giornate della Legal Community Week si sono susseguiti momenti di confronto scientifico e intellettuale e momenti di svago e divertimento. Tutte occasioni per svolgere attività di networking e vivere assieme ad avvocati, house council, bankers e imprenditori un'importante occasione per fare sistema e crescere insieme. Tra i momenti principali della Legal Community Week la presentazione della General Council Champions List, le conferenze sul business tra Italia, Africa e Medio Oriente, quella dedicata ai rapporti tra Milano e Parigi così come quelle intitolate all'innovazione nei servizi legali e alla questione del data rush. I lavori sono stati inframmezzati da una run and walk 10 km e dall'attesissimo appuntamento con il Corporate Music Contest a cui hanno partecipato ben nove band di legali e bankers. La settimana si è chiusa in grande stile con il gala dei Corporate Awards a cui hanno preso parte oltre 850 ospiti per applaudire i professionisti che si sono distinti maggiormente nel settore durante l'ultimo anno. Insomma, la seconda edizione della Legal Community Week è stata un grande successo. L'appuntamento adesso è per l'edizione del prossimo anno in programma dal 10 al 14 giugno 2019.